Ladies and gentlemen, brothers and sisters, it's going down to Bike Show. It's not only a show, but it's all about the bicycle. Bike Show TV, fa girare la tua passione. Bike Show TV, fa girare la tua passione. Caro piccolo ciclista, la vita è una pedalata che ti fa vivere tante emozioni, che ti fa crescere senza illusioni, che ti fortifica le relazioni, che fa sognare le cose migliori, che fa nascere il più bel sorriso. Io sono il Princi, uno di voi, sorridete e pedalate. Con queste parole si è aperta la prima Baby Cup Princi, una manifestazione per piccoli ciclisti organizzata in ricordo di Claudio Princivalle, che oltre ad essere stato un punto di riferimento dello sci e della mountain bike veronese, è stato anche un maestro di vita per molti. Erano presenti infatti diversi suoi ex-atleti e amici con i loro figli. La Baby Cup Princi si è svolta domenica 7 ottobre sul prato della Polisportiva Besani, in concomitanza al 22esimo trofeo Benini Mountain Bike, organizzato dalla Polisportiva Quinzano e dal Team Bicicli, sensibile all'inserimento dei bambini in questa specialità e che ha dato tutto il supporto logistico e gastronomico necessario. L'aria che si respirava era più di una festa che di una gara. Questa era l'intenzione degli organizzatori, tra cui Lucia e Giovanna Bonazzi, rispettivamente moglie e cognata del Princi. Sembrava di essere tornati ai primi anni 90, quando le sponsorizzazioni semplicemente aiutavano a far crescere le manifestazioni e non ad essere motivo di business. Quando la gara era un motivo per vedere posti diversi in Italia, ammirare i paesaggi e l'occasione per incontrare nuovi amici con la stessa passione per la bici. Insomma, sport vero per il gusto di farlo, all'insegna del divertimento. I veri protagonisti sono stati 177 bambini dai 4 ai 12 anni, provenienti da Verona, Trento, Vicenza e Treviso, che hanno potuto scorrazzare liberamente con le biciclette dalle ruote grasse sul prato del centro polisportivo Vesani. Non da meno sono stati i genitori con il loro tipo assordante. Il percorso disegnato dagli amici del Princi, Daniele, Giovanna, Andrea e Camilla, è caratterizzato da un aspirare a tre cerchi, in andata e ritorno, battezzata la Chiocciola, che permette di ospitare sul tracciato numerosissimi bambini contemporaneamente. E da uno slalom parallelo tra gli pneumatici, un semplice prato insomma si è trasformato in un parco di divertimento per piccoli biker. Al termine della prova i bambini si sono divertiti a seguire prima le evoluzioni e poi i consigli del pluricampione di Bike Trial Alberto Limatore, che ha seguito i bimbi individualmente in esercizi di equilibrio. La giornata si è conclusa con un ricco rinfresco a base di tortellini e crepe, offerto dalla società organizzatrice. Infine tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia magnetica e stoffa creata e realizzata da Lucia e tanti altri premi. Tanti bambini ciclisti, tanta allegria, amicizie e sorrisi. Ecco cosa ci dovrebbe accompagnare a tutte le età durante lo sport e le competizioni. I principianti stanno già pensando alla prossima gara. Uno, due, tre, catorze. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, it's going down to bike show. It's not only a show, but it's all about the bicycle. Bike show. Show TV fa girare la tua passione.